11 provvedimenti di D'Alpo, grazie alla sinergia tra le forze dell'ordine e i sistemi di videosorveglianza? Sì, assolutamente sì, sono provvedimenti molto importanti perché noi vogliamo mandare un segnale chiaro e inequivocabile su quella che sarà la nostra inedizione per reprimere queste azioni violente e contrarie anche allo spirito sportivo di chi va a frequentare per divertirsi i campi di calcio. L'11 settembre in occasione della partita Sant'Egillese-Mociano-Sant'Angelo ci sono stati degli scontri dopo la partita quindi in una via adiacente allo stadio in cui alcuni tifosi di entrambe le fazioni sono scesi dalle autovetture e ci sono stati dei lanci di bottiglie, di oggetti che però sono stati subito sedati a seguito del nostro intervento. Dopo un'attività investigativa fatta soprattutto di analisi delle immagini che hanno state riprese dai sistemi di videosorveglianza siamo arrivati all'identificazione definitiva di una parte dei soggetti che hanno dato luogo a questi scontri. Tra gli 11 tifosi anche incensurati? Sì, comunque non ci siamo fermati a questi 11 provvedimenti, con il senso di questo legge siamo d'accordo che proporremo altre persone anche, questo dobbiamo dirlo, delle fazioni opposte e questo seguirà anche per le altre manifestazioni sportive perché comunque il messaggio deve essere, come ha detto il senso di quest'ora, inequivocabile per tutti. Non possiamo consentire che persone che vanno per divertirsi e godersi un pomeriggio, diciamo così, di tranquillità allo stadio possono essere coinvolti invece in azioni di scontro e riportare addirittura anche lesioni personali o a cose come in questo caso in cui sono state danneggiate anche delle autovetture. Dobbiamo ricordare che la normativa prevede che qualora il soggetto che è stato colpito dal provvedimento sia già oggetto di un analogo provvedimento precedente, c'è addirittura un aggravante per la reiterazione e si può arrivare fino a 8 anni di interdizione dai luoghi in cui vengono svolte le manifestazioni sportive. Tra gli 11 quanti erano già conosciuti le forze dell'ordine? Circa la metà.